La possibilità per l'associazione di terzo settore, del volontariato, della cultura, del mondo dell'impresa, del sindacato di poter beneficiare di 30 minuti a settimana per il servizio pubblico presso la RAI. Il sabato dalle 7.30 alle 8 ci sarà questa finestra aperta e libera a tutti i soggetti che ne potranno beneficiare e raccontare le tante attività che si svolgono sul territorio regionale. Un'occasione unica gestita dal Coricom, voluta dal Coricom e che la RAI ha voluto accogliere ovviamente nel pieno impegno e nella piena passione. Ci sarà una sinergia tra il Coricom e la RAI in che termini? La sinergia sta nel fatto che noi accoglieremo le domande dei soggetti beneficiari e la RAI produrrà attraverso il proprio supporto tecnico dei professionisti del settore i contenuti di queste associazioni che racconteranno quello che fanno sul territorio e anche il Coricom metterà a disposizione un giornalista che potrà seguire e confezionare un prodotto appetibile e utile alla comunità.